Nell'antica Roma la Suburra era il quartiere dove il potere e la criminalità segretamente si incontravano. Dopo oltre 2000 anni quel luogo esiste ancora, perché oggi forse più di allora Roma è la città del potere, quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze affrescate e cariche di spiritualità del Vaticano e quello infine della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via più diretta per imporre a tutti la propria legge. Da qui lo spunto per Cattleya e Rai Cinema di produrre il film Suburra in programmazione dal 19 al 22 al Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, unico spettacolo alle ore 21. Il film è la storia di una grande speculazione edilizia che trasformerà il litorale romano in una nuova Las Vegas. Per realizzarla servirà l'appoggio di Filippo Malgradi e Pierfrancesco Favino, politico corrotto e invischiato fino al collo con la malavita di numero 8 Alessandro Borghi, capo di una potentissima famiglia che gestisce il territorio e soprattutto di samurai Claudio Amendola, il più temuto rappresentante della criminalità romana e ultimo componente della banda della Magliana.